Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, andò per riposare l'ala offesa sulla finestra aperta ad una chiesa. Dalle tendine del confessionale il paroco intravide l'animale, ma, pressato dal ministero urgente, rimase intento a confessare la gente. Mentre in ginocchio alcuni altri a sedere dicevano i fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. Un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore. E scuro in viso peggio della pece, si arrampicò sul pulpito e poi fece. Fratelli, chi ha l'uccello per favore esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti, saccinsera ad alzarle suole, ma il prete a quell'errore madornale, Fermi, gridò, mi sono espresso male, rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, la corona in mano, cento donne si alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò, sbagliate ancora, rientrate tutte quante figlie amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quello che ho detto torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma, mi rivolgo, non ci sia sorpresa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Finì la frase, nello stesso istante le monachie salzarono tutte quante. E con il volto pieno di rossore, lasciavano la casa del Signore. O Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete. Poi, senza fare rumore, dico, piano piano, salzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato si era messa in un angolo appartato, sommessa, mormorò col viso smorto, Che ti dice, hai visto? Se ne è accorto!